Il culto di Ercole si ritrova a Tivoli, ai margini dell'antica via Tiburtina. Ercole vincitore, invitto, olivario, protettore dei commerci e della transumanza, veniva venerato nel monumentale santuario tornato ad ospitare visitatori dopo un lungo percorso di restauro. Le imponenti architetture, quali colonnati, porticati e terrazzamenti, sono riemerse dall'oblio e fanno del complesso il terzo polo archeologico romano di Tivoli, come spiega il dottor Andrea Bruciati, direttore dell'Istituto Villadriana Villadeste. Scenografia suggestiva ed ideale che ogni estate diviene teatro del festival Tivoli Chiama, realizzato dall'assessore alla cultura Urbano Barberini, santuario di Ercole vincitore a Tivoli. Prossimamente.